Possiamo ufficialmente dire, quindi sono super 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 felice, possiamo ufficialmente dire che siamo qualificati per le Paralimpiade di Parigi 2024. Non solo io, ma anche Edoardo, Emanuele e gli altri ragazzi del team di Fly to Paris e quindi sono molto 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 felice di poter annunciare questa cosa. Quindi sì, adesso questo punto ufficiale. Ci vediamo a Parigi, tra poco. Annunciava così Bebevio a marzo scorso la partecipazione alla sua terza Paralimpiade dopo Rio de Janeiro e Tokyo. Sono ben 19 gli atleti veneti che gareggeranno fino all'8 settembre a Parigi in una competizione che vedrà anche al Via sei atleti trevigiani. Oltre alla capitana Bebe, che sarà in pedana dal 4 al 5 settembre per le gare di Fioretto individuale a squadre, anche Manuel Bortuzzo nel nuoto alla sua prima Olimpiade dopo il tragico episodio di Roma nel 2019 quando un proiettile sparato per errore gli stroncò il sogno olimpico tra i normodotati. Saranno della spedizione anche Silvia Biasi nel sitting volley, Asia Pellizzari e Paolo Tonon nel tiro con l'arco, ma soprattutto Francesca Porcellato, la rossa volante, che raggiungerà l'astronomico numero di 12 partecipazioni ai giochi olimpici, 8 estivi e 3 invernali, in svariate discipline, con 15 medaglie conquistate. La sua prima volta fu a Seul nel 1988. A Parigi gareggerà solo nell'handbike, ma alle soglie dei 54 anni, che compirà proprio il 5 settembre nella capitale francese, la rossa darà ancora una volta tutta se stessa. Gli auguri a tutti gli atleti sono arrivati anche dal presidente Luca Zaia, che ha ricordato che in Veneto lo sport paralimpico è una priorità e lo dimostra il vero e proprio boom registrato nell'ultimo ventennio. Dalle 39 società e 900 atleti censiti nel 2005, oggi si contano 428 società e 2.500 atleti. A Tokyo abbiamo vinto 26 medaglie sulle 69 conquistate dall'Italia, ma oltre alle vittorie, il vero trionfo è il messaggio di inclusione che questi atleti riescono a trasmettere giorno dopo giorno. Con il loro esempio abbattono barriere e pregiudizi, dimostrando che lo sport è molto di più. Comunque vada però grazie a questi campioni di vita e di sport, ha detto il presidente.